La violenza su una donna può assumere molte forme, anche quella che porta ad un reato di rapina e quello che è successo attiene qualche giorno fa in zona Bosco, dove è in corso il Luna Park per la festa di San Giovanni Battista, patrono della città. Qui una donna la sera del 12 giugno è stata stratonata con forza da un uomo che poi si è rivelato estero il suo convivente che è scappato dalla sua borsa. L'allarme è scattato immediatamente con una chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto è giunta una patria dei carabinieri di Tiene, impegnata in quel momento in un servizio di controllo del territorio. In pochissimi minuti i militari hanno rintrecciato l'uomo in una via limitrofa rispetto a dove erano successi i fatti. Il cittadino straniero di 40 anni aveva ancora con sé la borsa ed è stato qui immediatamente bloccato. Sono bastati pochi minuti ai militari dell'arma per inquadrare il fatto. La persona, fermata infatti non solo prima di rinforzarsi della borsa, aveva anche aggredito verbalmente e fisicamente la donna, ma della vittima, come detto, era pure il convivente. Il quarantenne è stato quindi arrestato in flagranza per i reati di rapina e su disposizione del magistrato di turno della procura di Vicenza è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.